Il progetto Sole 24 ore è finanziato dalla Commissione Europea, ha come scopo la formazione dell'assistente domiciliare 24 ore su 24. Per questo progetto abbiamo organizzato un corso di cucina veneta rivolto a donne straniere che vogliono avvicinarsi alla cultura di cucina italiana e veneta per poter soddisfare i bisogni dell'anziano nel momento in cui debbano lavorare come badante e come assistente domiciliare. Al corso di cucina veneta hanno partecipato donne straniere di varie nazionalità, venivano dal Senegal, dal Mali, dalla Mauritania, dalla Thailandia e c'è stato un grande entusiasmo e una grande partecipazione. Hanno ascoltato con molto interesse le ricette, hanno seguito passaggio per passaggio, facendo domande, anche chiedendo poi di partecipare nella preparazione di alcuni passaggi. Il corso di cucina veneta ha come scopo quello di insegnare a donne straniere che non hanno dimestichezza con la nostra cucina per imparare alcuni piatti tipici del nostro territorio per poi riuscire a riproporli all'anziano in modo tale da creare una sintonia per soddisfare i suoi gusti. Eurocultura è un'organizzazione che si occupa di mobilità internazionale e partecipa a numerosi progetti europei come il Sole 24 ore. Alla fine di ogni preparazione c'era un momento di degustazione. Anche qui c'è stato un grande entusiasmo da parte delle partecipanti, hanno apprezzato i gusti veneti che non avevano mai conosciuto. Come insegnante è stata una bella esperienza, sia grazie alla grande partecipazione e all'entusiasmo delle partecipanti. C'era una bella atmosfera, curiosità da parte loro ed è stato molto bello insegnare a loro le nostre tecniche, le nostre ricette. È un'esperienza che ripeterei molto volentieri. Grazie a tutti! A presto! Grazie a tutti.